Adriano Casiraghi, il 43enne di Argenio, trovato senza vita ieri pomeriggi in un albergo di Lasterrenas, in Repubblica Dominicana, aveva lasciato Ellario anni fa, ma in paese i concittadini l'avevano rivisto di recente, lo ricorda il sindaco del paese, Roberto De Angeli. Per Argenio questa notizia è una doccia gelata, dice il primo cittadino che conosceva Casiraghi fin da bambino. Adriano era stato in paese pochi giorni fa, so che doveva rinnovare alcuni documenti, ci siamo incontrati e l'ho trovato in forma, mi ha raccontato della sua vita dall'altro capo del mondo e durante la sua permanenza ad Argenio i suoi coetanei avevano organizzato una cena. Fino a quando aveva abitato sul lago, spiega il sindaco, Casiraghi aveva lavorato nella ristorazione e spesso come frontaliere, so ad esempio che aveva lavorato a Campione d'Italia, aggiunge De Angeli, e anche in Repubblica Dominicana lavorava nel settore della ristorazione. Siamo davvero scioccati, conclude il sindaco, in paese sta circolando la notizia e siamo increduli, l'avevamo visto poco tempo fa. Casiraghi aveva perso entrambi i genitori, ad Argenio abita la sorella.